Le ho uccise, scrive Mattia Schippe in una delle otto lettere inviate a Svizzera dalla Puglia. Alessia e Livia, gemelle, sei anni, sono vive il primo febbraio quando sbarcano a Propiano, in Corsica, con il padre e una misteriosa donna bionda. Di Alessia e Livia non vi è più traccia giovedì 3, quando il padre si lancia sotto un treno a Cerignola, in provincia di Foggia. L'intenzione di togliersi la vita è chiara nella lettera spedita da Cerignola, in cui confessa di averle eliminate. La stessa missiva, rivelata da un giornale francese, nella quale Mattia Schippe afferma «Le bimbe riposano in pace e non hanno sofferto». Nelle altre sette missive c'è il denaro prelevato al Bancomat di Marsiglia. Le indagini si concentrano nelle 15 ore che Mattia Schippe impiega per raggiungere Bastia. Gli inquirenti del canton Ticino confermano la notizia delle lettere. Hanno perso la speranza di ritrovarle vive. I francesi ripartono dalle tracce di terriccio raccolte dagli italiani sulla macchina abbandonata in Puglia. In Corsica si cercano due cadaverini sepolti nel nord dell'isola. A Genova, la polizia scientifica passa al setaccio la cabina occupata da Mattia Schippe. Era solo il canadese separato dalla moglie, turbato dall'impossibilità di riconciliarsi con la donna di origine italiana e dalle limitazioni negli incontri con le due splendide bimbe. Il Mega Express 2 della Corsica Sardinia Ferris è ormeggiato al Mologiano del porto di Genova. Gli agenti prelevano tracce di natura biologica impronte. Il loro lavoro è reso difficoltoso dalle pulizie frequenti ed al passaggio di numerosi altri passeggeri nella stessa cabina. Riscontri, solo riscontri. L'ultima parola sul giallo delle gemelline scomparse è in quel buco nero di 15 ore tra il porto di Propriano e quello di Bastia.